Capitolo ottavo Tutto il quartiere non faceva intanto che discorrere della grande strada che doveva essere aperta tra la borsa e il nuovo teatro dell'Opera, col nome di Rue du 10 de Sambre. I decreti di espropriazione erano già pronunciati e due schiere di demolitori buttavano giù da un capo e dall'altro l'uno ai vecchi palazzi di Rue Louis-le-Gran, l'altro ai muri leggeri del vecchio vaudeville. Si sentiva il rumore dei picconi sempre più vicino, Rue Chassol e quella della Michaudière, si appassionavano per le loro case condannate. Entro quindici giorni dovevano essere sventrate e lasciare libero il posto alla vita e al sole. Ma più ancora il quartiere era commosso dai lavori che si facevano nel Paradiso delle Signore. Correva la voce di nuovi ingrandimenti, di giganteschi magazzini che avrebbero prese le tre facciate di Rue de la Michaudière, Rue Neuf-Saint-Agostin e Rue Monsigny. Mouret, dicevano, aveva trattato col Barone Hartmann, presidente del credito fondiario, e doveva occupare tutto l'insieme delle case, salvo la futura facciata in Rue du 10 de Sambre, dove il Barone voleva costruire un albergo che facesse concorrenza al Grand Hotel. Dappertutto il Paradiso riscattava i vecchi affitti, le botteghe si chiudevano, gli inquilini sgombravano e nelle case vuote un esercito di operai cominciava già i lavori tra nugoli di gesso. Soltanto la casetta di Burra resisteva tra quello scombossolamento, immobile e intatta, ostinatamente confitta tra gli altri muri coperti di muratori. Quando, il giorno dopo, Denise con Pepe andò dallo zio, la strada era quasi sbarrata da una fila di carri che scaricavano mattoni davanti all'Hotel du Villard. Boudou stava a guardare cupamente, ritto sulla soglia della sua bottega. Più il Paradiso cresceva, più pareva che il vecchio Elbeuf scemasse. La giovanetta trovò le vetrine anche più nere, più soffocate dal mezzanino, con quelle finestre da prigione. L'umido aveva stinto anche di più il vecchio cartello verde. La facciata intera, quasi dimagrita e color piombo, faceva freddo a vederla. «Eccovi, finalmente!» disse Boudou. «State attenta, sarebbero capaci di schiacciarvi!» Nella bottega Denise sentì lo stesso stringimento di cuore. Le pareva anche più buia, anche più oppressa dalla sonnolenza della rovina. I palchetti vuoti parevano buchi oscuri. La polvere invadeva banchi e scaffali, dai mucchi di stoffa non più smossi saliva un odore di cantina muffita. Alla cassa stavano immobili la Boudou e Genevieve, come in un angolo solitario dove nessuno veniva a disturbarle. La mamma urlava dei canovacci, la figlia stava con le mani cadutele sulle ginocchia guardando nel vuoto davanti a sé. «Buonasera, zia!» disse Denise. «Come sono contenta di rivedervi! E se mai v'ho dato dei dispiaceri, vi prego di perdonarmi!» La Boudou, commossa fino alle lacrime, l'abbracciò. «Povera figliola!» rispose. «Se non avessi altri di dispiaceri, mi vedresti più allegra!» «Buonasera, cugina!» riprese Denise, baciando per prima Genevieve sulle gote. Genevieve parve si svegliasse a un tratto. Le rese i baci senza trovare una parola. Lei e sua madre baciarono poi Pepe, che tendeva le braccine e la riconciliazione fu intera. «Dunque, sono le sei, andiamo a tavola!» disse Boudou. «Perché non hai portato anche Jean?» «Doveva venire», mormorò Denise un po' imbrogliata. «L'ho visto per l'appunto stamattina e me l'ha proprio promesso. Non bisogna aspettarlo, lo avrà trattenuto il padrone». Aveva paura di qualche storia delle solite. E lo voleva scusare fin da allora. «Su, via, mettiamoci a tavola!» ripete lo zio. Poi, volgendosi verso il fondo buio della bottega, «Colomban, potete mangiare con noi, tanto non viene nessuno!» Denise non si era accorta del commesso. La zia le raccontò che avevano dovuto licenziare quell'altro uomo e la ragazza. Gli affari si facevano tanto cattivi che Colomban bastava. N'avanzava, anzi, perché doveva passare ore e ore senza far nulla, insonnolito con gli occhi aperti. Nel salotto da pranzo il gas ardeva, per quanto si fosse allora nelle lunghe giornate estive. Denise, nell'entrare, ebbe un leggero brivido, sentendo giù per le spalle il fresco che cadeva dai muri. Rivide la solita tavola rotonda, le posate messe sull'incerato, la finestra che prendeva aria e la luce dal fondo del pozzo fetido del piccolo cortile. E tutto le pareva, al pari della bottega, divenuto più cupo. Ogni cosa le pareva che desse lacrime. «Papà», disse Geneviève, per riguardo a Denise, «devo chiudere la finestra, c'è un certo odore». Bedou non sentiva nulla e si meravigliò. «Chiudila, se ti pare», rispose finalmente, «ma si soffocherà tutti». E veramente c'era da soffocare. Il pranzo era alla buona, semplicissimo. Dopo la minestra, lo zio, quando la serva ebbe portato il lesso, cascò fatalmente su quelli di fronte. Da principio si mostrava tollerantissimo e permetteva alla nipote di pensarla diversamente. «Dio mio, padrona, padronissima di sostenere quei grandi arsenali di magazzini! Ognuno ha le sue idee, ragazza mia! Se non t'hanno nemmeno fatto arrabbiare l'essere stata messa in quel modo alla porta, devi avere proprio delle ragioni forti per difenderli. E nemmeno se tu ci tornassi, io per me me ne offenderei affatto. Non è vero? Qui nessuno se ne offenderebbe». «Oh no!» mormorò Labdou. Denise disse pacatamente le sue ragioni come usava dirle a Rubinò. «Lo svolgimento logico del commercio, i bisogni dei tempi nuovi, la grandezza di tutto ciò che veniva su ora, finalmente il continuo migliorare delle condizioni pubbliche». Badou, con gli occhi fissi e la bocca socchiusa, l'ascoltava con una visibile tensione della sua intelligenza. Quando ebbe finito, scosse il capo. «Sogni, sogni! Il commercio è il commercio! Di qui non se ne esce! Oh, quanto a riuscire gliel'ammetto! Ma non vado più in là! Da un pezzo mi aspettavo che facessero tutti un capitombolo! Già, me l'aspettavo e avevo pazienza. Tener a menti? Oggi pare invece che bisogna essere ladri per far fortuna. E la gente onesta muore sulla paglia! Ecco a che siamo ridotti. Sono costretto a inchinarmi davanti ai fatti. E minchino! Dio mio, minchino!» Una collera repressa poco a poco lo accendeva. Ad un tratto afferrò la furchetta e la brandì. «Ma io resterò dritto fino all'ultimo respiro! Il vecchio e il boeuf non si piegherà mai! Se mi scacca addosso per la vecchiaia ci avrò gusto a lasciarci le ossa! Capisci? Gliel'avevo detto io a Burà. Amico, tu scendi a patti, a patti coi ciarlatani! Tutti questi bei rimpasticciamenti sono una vergogna!» «Mangia, mangia!» interruppe la moglie, inquieta di vederlo riscaldarsi così. «Aspetta! Voglio che mia nipote sappia bene di che panni mi vesto!» «Stai a sentire, figliola mia! Io sono come questa boccia, di cui non mi muovo. Riescono meglio per loro. Io protesto!» La serva portò l'arrosto. Badù lo tagliò con le mani che gli tremavano. Ma non aveva più quell'occhiata tanto sapiente, quella maestria di prima a ben pesare le parti. La coscienza della sua sconfitta gli toglieva la sicurezza, che aveva prima, di padrone rispettato. Come egli diceva da sé, non gli restava che una forza sola, quella dell'ostinazione nelle sue idee, la forza di aspettare che la sua casa andasse in rovina, senza fare un passo né a destra né a sinistra per schivare di averla sul capo. Pepe s'era figurato che lo zio si infuriasse e bisognò calmarlo. Dandogli subito i biscotti che stavano davanti al suo piatto. Allora lo zio, abbassando la voce, cercò di mutare discorso. Per un po' chiacchierò delle demolizioni e approvò la Rue du Dix de Sambre, che doveva certamente accrescere il commercio del quartiere. Ma di lì tornò di nuovo sul paradiso. Era la sua idea fissa. Non poteva fare a meno di riparlarne. Non se ne poteva più dalla polvere. Non si vendeva più nulla, da che c'erano per la strada tanti carri di materiali che la sbarravano. E poi, il paradiso, a forza di ingrandirsi sarebbe diventato ridicolo. I clienti ci si sarebbero spersi. E perché non mettevano su tutto un mercato? E malgrado occhiate supplichevoli della moglie, malgrado lo sforzo che egli stesso faceva dai lavori, passò a discorrere di quanto guadagnava il magazzino. Non se ne poteva fare una ragione. I men di quattro anni avevano quanto applicata la somma degli affari. L'incasso annuale, che prima era ad otto milioni, ora era giunto a quaranta, secondo l'ultimo inventario. In fin dei conti era una pazzia, una cosa che non si poteva più combattere. Ingrossavano sempre. Ora erano mille impiegati. Vantavano ventotto reparti. Questi ventotto reparti erano quelli che più lo stizzivano. Certo, ne dovevano avere sdoppiato qualcuno, ma altri erano proprio nuovi. Per esempio un reparto di mobili e un altro di oggetti parigini. Ma come? Oggetti parigini? Oh, quella gente non aveva tanti scrupoli. Primo o poi si sarebbero messi a vendere anche il pesce. Lo zio, pur fingendo di rispettare le idee di Denise, era giunto a farle la lezioncina. Sul serio, tu li puoi difendere. Lo capiresti tu se io mettessi un reparto di casseruole accanto a questo negozio di stoffe? Mi daresti del pazzo. Confessa almeno che non ne hai stima. E vedendo che la ragazza si contentava di sorridere, imbarazzata, perché capiva l'inutilità delle buone ragioni, continuò. Insomma, tu stai dalla loro parte. Non ne parliamo più. È inutile che ci arrabbiamo ancora. Mancherebbe anche questa. Che si ficcassero tra me e la mia famiglia. Tornaci pure, se ti piace. Ma ti proibisco di rompermi più le orecchie con questi discorsi. Per un po' stettero zitti. La sua violenza di prima cadeva in quella rassegnazione febbrile. Nello stretto salotto si soffocava, riscaldato come era dal gas, e la serva dovette riaprire la finestra. Allora l'umido fetore del cortile spirò sulla tavola. Era stato portato un piatto di patate. Si servirono lentamente senza aprire bocca. Guarda un po' quei due lì, ricominciò Badu accennando col coltello a Genevieve e Colombin. Domandate a loro se vogliono bene al tuo paradiso. Accanto accanto, al posto solito, dove da dodici anni si trovavano due volte al giorno, Colombin e Genevieve mangiavano svogliatamente. Non avevano detto ancora una parola. Lui, con l'esagerare la grossa placidità del suo viso, pareva nascondesse dietro le palpebre socchiuse la fiamma interna che lo bruciava. Lei, pallida, curvando sempre più la testa sotto i capelli troppo pesanti, si lasciava andare, come consumata da un gran dolore. L'anno scorso è stata una rovina, credete di dover dire lo zio. Abbiamo dovuto rimandarlo il matrimonio. «Domandaglielo, fammi il piacere, domandaglielo quel che pensano loro dei tuoi amici». Denise, per contentarlo, li interrogò. «Io non posso volergli un gran bene, cugina mia», rispose Genevieve. «Ma state tranquilla, mica tutti li detestano». E guardava Colombin, che faceva una pallina di pane tutto assorto. Quando si sentì addosso lo sguardo di lei, dette ampio sfogo alle maledizioni. «Un suddiciume, uno più brigante dell'altro, insomma una vera peste per tutto il quartiere!» «Sentite, sentite!» esclamava Bedou, tutto contento. «Eccone almeno uno, che loro non riusciranno mai ad avere! Tu sei l'ultimo! Della tua pasta non se ne fanno più!» Genevieve, severa nel viso e odolente, non levava gli occhi di dosso a Colombin, gli penetrava nel cuore, ed egli si turbava e raddoppiava le ingiurie. La mamma, di fronte a loro, li guardava inquieta, come se avesse indovinato un'altra disgrazia vicina. Da qualche tempo il pallore della figlia la spaventava, se la sentiva morire. «La bottega è sola», disse alla fine essa alzandosi, per finire quella scena. «Colombin, guardate un po', mi pare d'aver sentita gente!» Avevano finito e si alzarono. Bedou e Colombin andarono a discorrere con un mezzano che veniva a sentire se volevano qualcosa. La Bedou prese con sé Pepe per fargli vedere le figure. La serva in un batter d'occhio ebbe sparecchiato e Denise stava alla finestra senza pensare più a nulla, guardando il cortile, quando nel voltarsi vide Genevieve sempre al suo posto con gli occhi fissi sull'incerata che era umida ancora delle spugnate che gli aveva dato la donna. «Vi sentite male, cugina mia?» le chiese. La ragazza non rispose, fissando ostinatamente uno strappo dell'incerata come se fosse interamente assorta nelle riflessioni che la dominavano. Poi alzò la testa, con pena, e guardò il viso pieno di compassione che si chinava verso il suo. Eran dunque andati via gli altri? Che faceva lì su quella seggiola? E a un tratto scoppiò a piangere, ricadendo col capo sull'orlo della tavola, piangeva e si bagnava la manica di lacrime. «Dio mio, che avete?» esclamò Denise tutta sottosopra. «Volete che chiami qualcuno?» Genevieve lo afferrò nervosamente per un braccio e la trattenne, dicendole singhiozzando «No! No, state qui! La mamma non lo deve sapere! Con voi è lo stesso, ma gli altri... gli altri no! Non ho potuto fare a meno, ve lo giuro! È stato nel vedermi così sola sola! Aspettate, sto meglio, non piango più!» E i singhiozzi la scutevano tutta. Le sue gracili membra sussultavano convulsamente. Pareva che il monte dei suoi capelli neri le schiacciasse il capo e, nel muoverlo sulle braccia, una forcina venne via e i capelli le caddero sul collo avvolgendola. Denise intanto, pian piano, perché gli altri non sentissero, cercava di confortarla. Le spottonò la veste e le fece pena vedere com'era magra. La povera Genevieve aveva il petto vuoto come una bambina, anzi come una vergine consunta dall'anemia. A piene mani le presi i capelli, quelli splendidi capelli che parevano succhiare tutta la vita. Poi li annodò fortemente e gliele appuntò per sbarazzarla e farla un po' respirare. «Grazie, come siete buona!» diceva Genevieve. «Non son grassa, non è vero? Ero più forte prima e mi sono ridotta così!» «Riabbottonatemi il vestito!» La mamma mi vedrebbe le spalle. «Le nascondo più che posso! Dio mio, sto male!» «Sto male!» Rispondeva «sto male!» con una voce rassegnata nell'agonia della sua debolezza. La crisi intanto si calmava. I singhiozzi non la soffocavano più. Restava accasciata sulla seggiola e guardava fissa la cugina. Dopo un po' le domandò «Ditemi la verità. Le vuole bene!» Denise sentì il rossore che le saliva al viso. Aveva capito che voleva dire di Colombane e di Claire, ma finse meraviglia. «Chi?» Genevieve scuoteva il capo come dicesse che non ci credeva. «Non dite bugie. Fatemi il piacere di dirmelo sul serio. Voi lo sapete, ne sono sicura. Siete stata compagna di lei ed ho visto Colombane starvi dietro, parlarvi sommesso. Vi dava delle commissioni per lei, vero? Fatemi il piacere. Ditemi la verità. Vi giuro che starò meglio quando lo saprò!» Denise non si era mai trovata in un tale imbroglio. Davanti a quella povera ragazza che non apriva mai bocca e aveva indovinato tutto, non sapeva che dire e abbassava la testa. Eppure trovò la forza di dire un'altra bugia. «Ma vuol bene a voi!» Allora Genevieve fece un gesto disperato. «Sta bene. Non mi volete dire nulla. Tanto è lo stesso. Li ho visti io. Lui va ogni momento sul marciapiede per guardarla e lei lassù ride. Son certa che fuori si parlano!» «Ah, questo poi no! Ve lo giuro!» esclamò Denise, senza pensarci, spinta dal desiderio di darle almeno qualche consolazione. La giovane riprese fiato. Sorrise anche d'un debole sorriso, poi con voce stanca da convalescente. «Vorrei un bicchiere d'acqua. Scusate se vi do noia. Guardate lì nella credenza». E quando ebbe in mano la boccia, traccannò d'un fiato un gran bicchiere d'acqua, tenendo con una mano lontana Denise, che aveva paura e le facesse male. «No, no, lasciate fare a me. Ho sempre sete. La notte mi alzo per bere». Si tranquillizzarono. Poi riprese dolcemente. «Se sapeste, sono dieci anni che ho in testa questo pensiero del nostro matrimonio. Avevo ancora le sottane corte, che già Colombana era per me. Ma non mi ricordo nemmeno più come le cose siano andate. A forza di star sempre insieme, di trovarci chiusi qui, accanto accanto, senza mai distrarci. Dovetti finire col crederlo mio marito prima del tempo». Non sapevo se gli volevo bene o no. Ero sua moglie e bastava. E ora vuole andare con un'altra. Oh, mi sento spezzare il cuore. Voi vedete, voi non gli avete provati mai dolori così nel petto, nel capo, dappertutto. E sento che muoio». Aveva le lacrime agli occhi. Denise, che era commossa anche lei, chiese «E la zia sa niente?» «La mamma di qualcosa si deve essere accorta, credo. Il papà ha troppi dispiaceri. Non sa quel che mi fa soffrire, rimandando sempre il nostro matrimonio». «La mamma me l'ha domandato più volte. Mi vede star male e ci sta male anche lei. Non sono mai stato un colosso e me lo dice spesso, figliola mia. Non t'ho fatta forte abbastanza». «E poi come si fa a venire su bene in queste botteghe? Ma alla fine si deve accorgere che dimagrisco un po' troppo. Guardate che braccia, vi par possibile!» Riprese la boccia con la sua mano tremante. La cugina volle impedirle di bere. «No, lasciatemi fare, ho troppa sete!» Si sentiva la voce di Bedou. Allora, cedendo a un impeto del cuore, Denise si inginocchiò e strinse Genevieve tra le sue braccia fraterne. Le dette baci. Le giurò che tutto sarebbe andato bene, che avrebbe sposato Colomban e sarebbe stata felice. A un tratto si alzò. Lo zio la chiamava. «Jean, vieni!» Era proprio Jean che, tutto spaurito, arrivava per mangiare. Quando gli dissero che mancava poco alle otto, restò a bocca aperta. Non era possibile. Usciva allora di bottega. Si misero tutti a ridere. Doveva essere passato dal bosco di Vincennes, ma subito, appena poteva avvicinarsi alla sorella, le disse di nascosto «Oh, una lavandaia, un amore!» Riportava la biancheria. «Oh, lì, alla porta una carrozza, l'ho presa ore. Dammi cinque franchi!» Uscì e tornò subito per mangiare perché la Bedou non volle in nessun modo che se ne andasse senza mangiare almeno una zuppettina. Genevieve era venuta anche lei col suo silenzio solito e, al solito, se ne stava per conto suo. Colomban, dietro a un banco, quasi si addormentava. La sera passò triste e lentissima, animata soltanto dai passi dello zio che andava su e giù per il negozio vuoto. Non avevano acceso che un becco del gas e l'ombra del soffitto cadeva pesante come la terra nera di una fossa. Passò qualche mese. Denise dava una capatina tutti i giorni dai Bedou per allegrare un po' Genevieve, ma la tristezza in quella casa si faceva sempre maggiore. I lavori di fronte erano un tormento continuo, più crudele in quella loro rovina. Anche quando avevano un'ora di speranza, una gioia inaspettata, bastava il rumore d'un carro di mattoni o il mazzuolo d'uno scalpellino o un grido d'un muratore per guastargliela. Tutto il quartiere, del resto, ne era preoccupato. Dai recinti che costeggiavano e impicciavano le tre strade usciva un moto febbrile. Per quanto l'ingegnere si servisse dei fabbricati, che già c'erano, li rompeva da tutte le parti per ridurli a suo modo e, nel mezzo, dove erano i cortili, costruiva una galleria centrale, vasta come una chiesa, che doveva sboccare nel centro della facciata in Rue Neuf-Saint-Agustin per un grande atrio. Da principio avevano dovuto vincere grandi difficoltà per fare i sotterranei, per via di certi infiltramenti delle fogne in cui si erano imbattuti e per delle terre di alluvione piene di osso umane. Poi il nuovo pozzo aveva dato molto da dire e da temere alle case vicine. Un pozzo profondo cento metri che doveva dare cinquecento litri al minuto. I muri si alzavano ora al primo piano. Le impalcature giravano attorno a tutto l'isolato. Si sentiva di continuo lo scricchiolio delle macchine che tiravano sulle pietre. Il colpo improvviso delle stanghe di ferro. Il frastuono di quel popolo di operai accompagnato dal rumore dei picconi e dei martelli. Ma vincendo il resto, assordava sempre più la gente il fremito delle macchine. Tutto andava a vapore. Fischi acuti pareva strappassero l'aria e al più piccolo soffio di vento una nuvola di polvere si levava e cadeva come neve sui tetti circostanti. I Bedou, disperati, vedevano quel polviscolo implacabile entrare dappertutto, passando per gli infissi chiusi meglio e guastare le stoffe della bottega, insinuarsi perfino nel loro letto. Il pensiero che dovevano a ogni costo respirarlo, che ne sarebbero morti, avvelenava la loro vita. Del resto, le cose andavano di male in peggio. Nel settembre, l'ingegnere, per paura di non essere pronto, cominciò a far lavorare anche di notte. Furono installate potenti lampade elettriche e il fracasso non ebbe trego un momento. Gli operai si alternavano, i martelli non si fermavano, le macchine fischiavano continuamente, le urla, sempre altissime, sembrava facessero alzare e disperdessero la polvere. Allora i Bedou dovettero rassegnarsi a non chiudere più occhio la notte. Nella loro alcova giungevano quei rumori e, quando la stanchezza li assopiva, sognavano male. Se si levavano scalzi, per calmare la loro febbre, e andavano ad alzare un po' la tenda, restavano spaventati davanti all'apparizione del paradiso delle signore, che fiammeggiava nelle tenebre come una sterminata officina dove si fabbricasse la loro rovina. In mezzo ai muri, costruiti per metà, pieni di strappi, le lampade elettriche gettavano larghe raggi azzurrognoli, d'un'intensità che accecava, suonavano le due, poi le tre, poi le quattro. E, nel sonno penoso del quartiere, il palazzo ingrandito da quella luce lunare, divenuto sterminato e fantastico, formicolava di ombre nere, di operai che gridavano e si agitavano proiettando le loro ombre sul candore dell'intonaco nuovo. Lo zio Bedou l'aveva detto. Il piccolo commercio delle strade accanto era bello e finito. Ogni nuovo reparto messo su dal paradiso faceva andare a rotoli qualche negoziante giù di lì. La rovina cresceva, si sentivano già scricchiolare le case più antiche. La Tatin, che vendeva biancheria nella galleria Choiseul, aveva dovuto fallire. Kinette, guantaio, poteva durare al più per altri sei mesi. Bedou l'avevano con sua sorella, che vendevano ogni sorta di maglie, stavano ancora su in Rougaillon, soltanto perché davano fondo ai risparmi. E ora nuove rovine stavano per seguire quelle già previste da un pezzo. Il reparto degli oggetti parigini minacciava un chincagliere di Rous Saint-Roch, de Linière, un omone sanguigno. Quella della mobilia danneggiava la ditta Piotre Voir, il cui magazzino dormiva nell'ombra della galleria Sant'Anna. Non mancava perfino chi temeva un colpo d'accidente per il chincagliere che dalla mattina alla sera era fuori di sé dalla rabbia, vedendo il paradiso vendere i portamonete col 30% di ribasso. Quelli della mobilia più calmi fingevano di canzonare i merciai che si mettevano a dar via tavole armadi, ma i clienti cominciavano già ad andarsene ed il nuovo reparto era predestinato a un ottimo successo. Volendo o no, bisognava piegare il capo. Dopo quelli lì, degli altri dovevano rimetterci. E non c'era più nessuna ragione, perché tutti i commerci non fossero toccati uno alla volta. Un giorno o l'altro, il solo paradiso avrebbe coperto tutto il quartiere con la sua tettoia. Mattina e sera, quando i mille impiegati entravano e uscivano, facevano ora una fila così lunga in Place Gaillon che la gente si fermava a guardare come quando passano i soldati. Per dieci minuti i marciapiedi ne erano affollati e i negozi, sulle loro porte, pensavano al loro unico commesso, cui non sapevano più come dare da mangiare. L'ultimo bilancio del grande magazzino, quei famosi 40 milioni di incasso, aveva messo sotto sopra il vicinato. Tra il grido di sorpresa e d'ira, se lo ridicevano di casa in casa. 40 milioni! Si fa presto a dirlo. Certo, il guadagno netto, con tutte quelle spese e la vendita a prezzi bassissimi, non poteva essere più del 4%, ma 1.600.000 franchi era sempre una bella sommetta. Del 4% tutti si sarebbero contentati avendo quel capitale. Correva voce che l'antico capitale di Muret, i suoi primi 500.000 franchi accresciuti anno per anno di tutto il guadagno, un capitale che ora doveva essere di circa 4 milioni, era così passato dieci volte per i reparti trasformato in mercanzia. Quando Rubinò faceva questo conto dopo pranzo davanti a Denise, restava un po' accasciato, con gli occhi fissi sul piatto vuoto. Aveva ragione lei. Quel continuo rinvestire il capitale faceva la forza invincibile del nuovo commercio. Soltanto Burra negava i fatti e non voleva intendere ragioni. Superbo e stupido come un macigno. Un mucchio di ladri. Gente ipocrita e bugiarda. Ciarlatani che una mattina o l'altra sarebbero ruzzolati nel fango. I Bédu, frattanto, sebbene non volessero cambiare nulla del vecchio il boeuf, facevano di tutto per mantenersi clienti. E poiché questi non venivano più, si sforzavano di andarli a cercare per mezzo di intermediari. C'era allora un intermediario che, quando ci si metteva di buzzo buono, salvava non soltanto tutti i grandi sarti, ma anche le più piccole botteghe di stoffe e flanelle. Naturalmente se lo litigavano ed era quasi divenuto una persona importante. Bédu entrò in trattative con lui, ma ebbe il dolore di vederselo portare via dai matignons di Rucroa de Petit Champ. Due altri intermediari, uno dopo l'altro, lo derubarono. Un terzo, che era onesto, non riusciva a fare nulla. Era la morte lenta, senza scosse. Un rallentarsi continuo degli affari, i clienti perduti a uno a uno. Venne il giorno che le scadenze dettero molto da pensare. Fino allora avevano tirato innanzi con quel che avevano messo da parte. Ora cominciavano i debiti. Nel dicembre, Bédu, atterrito dalle cambiali che aveva firmate, si rassegnò al più crudele dei sacrifici che potesse fare. Vendette la sua villa di Rambouillet. Non ne aveva mai tratto un soldo quando l'aveva affittata. Per questa vendita si dileguò il solo sogno della sua vita. Il suo cuore sanguinava, come per la perdita di una persona a lui cara. Dovette dare per 60.000 franchi ciò che a lui ne costava più di 200.000, ed ebbe anzi abbastanza fortuna nel trovare i lom che, avendo accanto i loro possessi, per desiderio di accrescerli, comprarono. Quei 60.000 franchi dovevano reggere il negozio per un altro po'. Anche sotto quelle batoste, il pensiero della battaglia rinosceva. Chissà che ora con un po' più di ordine non si potesse anche spuntarla. La domenica che i lom pagarono la somma, volero pranzare coi loro amici del vecchio il boeuf. Venne prima Madame Aurelie. Bisogna aspettare il cassiere che giunse in ritardo, sbalordito da una mezza giornata di musica. Albert aveva accettato l'invito, ma non si fece vedere. Fu una serata penosissima. I Bédou, abituati a vivere senza aria in fondo al loro salottino, rimasero male del trambusto che i lom vi portarono con quel loro modo di intendere la famiglia e il loro gusto per la vita libera. Geneviève, offesa dei modi imperiali di Madame Aurelie, non aveva aperto bocca. Colombin ammirava invece, rabbrividendo, colei che regnava sulla sua Claire. Prima di andare a letto, la sera, Bédou passeggiò un pezzo su e giù per la stanza. Non era freddo, faceva un umidiccio come quando disgela. Fuori, per quanto le finestre fossero chiuse e le tende tirate, si sentivano muggire le macchine di fronte. «Sai a che penso, Elisabeth?» disse alla fine alla moglie che era già fra le lenzuola. «Penso che i lom hanno un bel mettere da parte. Io non farei a cambio nemmeno. Hanno quattrini, lo so. La moglie ha raccontato, non è vero, che quest'anno ha preso quasi 20.000 franchi e che per questo ha potuto comprare casa. Che mi importa? La casa non l'ho più, ma almeno non vado a suonare il corno da una parte mentre tu da quell'altra. No, no, non possono essere contenti». Il dolore del sacrificio fatto era ancora troppo vivo e non gli era passato ancora il rancore contro quelli che gli avevano portato via il sogno di tutta la sua vita. Quando, nell'andar su e giù, arrivava a letto, faceva un gran gesticolare, chienato sulla moglie, poi, giunto davanti alla finestra, si calmava un po' per ascoltare il rumore dei lavori. E ricominciava le accuse di prima, i lamenti disperati sui tempi nuovi. Una cosa simile non si era mai vista. I commessi guadagnavano ora più dei negozianti. I cassieri si compravano i possedimenti dei padroni. Veniva giù tutto. La famiglia non c'era più che di nome. Se la godevano alla trattoria, invece di mangiare onestamente un po' di zuppa in casa propria. Finalmente, concluse col profetare che Albert, un giorno, si sarebbe divorati i beni di Rambouillet con delle ballerine. La moglie stava a sentire, alzando il capo dal guanciale, tanto pallida che il suo viso e la tela avevano lo stesso colore. «Però...» «T'hanno pagato», disse alla fine con dolcezza. Badou non seppe che rispondere. Passeggiò un po' con gli occhi bassi, poi ripigliò. «È vero, ma hanno pagato! E in fin dei conti il denaro è sempre denaro! Sarebbe un bel fatto, sai, di ritirar su il negozio con questi quattrini qui. Oh, se non fossi tanto vecchio e tanto stanco!» Stettero zitti qualche minuto. Il negoziante rimuginava, sa Dio che disegni. A un tratto la moglie li parlò, con gli occhi levati al soffitto senza muovere il capo. «Te ne sei accorto, di Genevieve?» «Di che?» «Da un po' di tempo mi dà... da pensare. Sempre più pallida e pare che abbia qualche dispiacere.» Badou, dritto innanzi al letto, cascò dalle nuvole. «Ma perché? Se si sente male, lo dovrebbe dire. Bisognerà far venire il medico, domani.» La moglie, sempre immobile, stette un po' zitta, poi disse quasi ci riflettesse. «Questo benedetto matrimonio con Colombana. Sarebbe meglio uscirne.» Lui la guardò e poi ricominciò a passeggiare. Gli tornavano in mente dei fatti. Ma come era possibile che sua figlia si ammalasse per via del commesso? Gli voleva dunque tanto bene da non poter nemmeno aspettare un'altra disgrazia. E a questa poi non ci aveva pensato. Tanto più gli dava noia la cosa in quanto già aveva preso la sua decisione. Quel matrimonio non si poteva fare in tale stato del negozio, ma il timore lo commuoveva. «Sta bene», disse. «Ne parlerò con Colomban.» E continuò a passeggiare senza aggiungere altro. Gli occhi della signora si chiusero. Dormiva, pallida come una morta. Lui seguitava ad andare su e giù. Prima di entrare dentro al letto, aprì le tende e diede un'occhiata. Dall'altra parte della strada le finestre spalancate del vecchio palazzo du Villard facevano intravedere i lavori, con gli operai che si muovevano nel chiarore della luce elettrica. La mattina dopo, Badou si tirò dietro Colomban nella stanzetta del mezzanino. Aveva già pensato quel che gli doveva dire. «Come tu sai, figlio mio, ho venduto il mio possesso di rambuille. È un bel rincalzo. Ma prima di tutto vorrei un po' far due chiacchiere con te.» Il giovanotto, che pareva avesse paura di quel colloquio, aspettava con un viso che non voleva dire nulla. I suoi piccoli occhi si muovevano nel suo faccione e restava bocca aperta. Ciò in lui era segno di profondo turbamento. «Sta bene a sentire. Quando papà Oshkorn mi cedette il vecchio Elbef, il negozio andava a gonfie vele. Anche lui l'aveva avuto ai suoi tempi dal vecchio Finé, in buono stato. Tu mi conosci. Mi parebbe di fare una frode se lasciassi ai miei figli diminuito questo deposito di famiglia. Ed è perciò che ho sempre rimandato di anno in anno il tuo matrimonio con Genevieve. Già, mi ci incaponivo. Speravo di trovare la fortuna e ti volevo mettere i libri sotto il naso dicendoti «Ecco qui, quando entra io nel negozio si vendeva tanto. Quest'anno in cui me ne vado si è venduto per dieci o ventimila franchi di più. Insomma, tu capisci una specie di giuramento che mi sono fatto. Il desiderio naturale di provare a me stesso che il negozio, con me, non è andato male. Se no, mi parebbe di rubare». La commozione gli serrava la gola. Si soffiò il naso e riprese «Non dici nulla?». Ma Colomban non poteva dire nulla, scuoteva il capo, aspettava sempre più turbato, credendo di indovinare dove il padrone sarebbe andato a cascare. Il matrimonio fra pochi giorni. Come fare a dirgli di no? Non ne avrebbe mai avuto il coraggio. Bisognava rinunciare a quell'altra che egli si sognava tutte le notti con la carne ardente di tale fiamma che, per non morirne, si gettava nudo com'era per terra. «Ecco ora», proseguì Pedù, «ecco ora il denaro che ci può salvare. Le cose peggiorano di giorno in giorno. Ma chissà che facendo uno sforzo supremo… Insomma, te lo volevo dire, si gioca tutto su una carta. Se va bene, bene. Se no, peggio per noi. Ma il vostro matrimonio, povero figlio, bisogna rimandarlo un'altra volta. Con che cuore vi lascerei soli nella peste? Sarebbe una vigliaccheria, non è vero?» Colomban, ripigliando fiato, si era messo a sedere su una delle balle di stoffe. Di tremavano ancora le gambe. Aveva paura di lasciar trapelare la sua contentezza e abbassava la testa sulle ginocchia. «Non dici nulla?» ripeteva Pedù. «No, non diceva nulla. Non sapeva dir nulla. Allora il vecchio riprese lentamente. Ne ero sicuro io che ti sarebbe dispiaciuto. Ci vuol coraggio, lo so, via, fatti animo. Non restare così sbalordito. E soprattutto intendi bene come stanno le cose. Vi posso legare questo pietrone al collo? Invece di un buon affare io forse vi darei un fallimento. No, no, ci vogliono i birbanti per fare di questi tiri. Io voglio, e lo sapete, la vostra felicità. Ma non mi farete mai far nulla contro la mia coscienza!» E seguitò su questo tono, dipattendosi tra frasi contraddittorie, come uno che voleva essere inteso al volo ed essere forzato dagli altri. Aveva promesso la figlia il negozio, e la rigida probità lo spingeva a dare l'una e l'altro in buono stato, senza né macchie né debiti. Ma era stanco. Il peso era ormai troppo grave per lui. Nella sua voce tremante ci si sentiva una preghiera. Le parole gli si imbrogliavano sempre più sulle labbra. Seguitava ad aspettare da Colombano uno slancio, un grido del cuore che non veniva. «Lo so», mormorava, «i vecchi non hanno più fiamma. Ci vogliono i giovani a riaccendere le cose. I giovani hanno il fuoco addosso. È naturale, ma no, no, non posso, non posso proprio. Se cedessi, poi me lo verresti a rinfacciare». Si calmò fremendo, e siccome il giovanotto stava sempre a capo basso, gli domandò per la terza volta, dopo qualche secondo di penoso silenzio, «Non dici nulla?» Finalmente Colombano, senza alzare gli occhi, rispose, «Non c'è nulla da dire. Siete voi il padrone. Voi la sapete più lunga di noi altri. Se proprio volete, aspetteremo o cercheremo di farcene una ragione». Era bella e finita. Badù sperava ancora che gli si buttasse tra le braccia, gridando, «Riposatevi, papà. Ora tocca a noi. Dateci il negozio com'è e noi lo salveremo». Poi lo guardò e si vergognò di se stesso. Si accusò nell'anima sua di aver teso un tranello ai suoi figli. Si risvegliava in lui la vecchia onestà maniaca del negoziante. Aveva ragione quel giovanotto con la sua prudenza, perché nel commercio non si va avanti col sentimento, ma con i numeri. «Abracciami, figlio mio», disse per concludere. «È bello e fissato. Si riparlerà di matrimonio tra un anno. Prima di tutto, gli affari!» Quando la sera, nella loro camera, la Badù domandò al marito com'era andata. Questi era ostinato più di prima a voler combattere di persona fino alla fine. Fece grandi elogi di Colomban. Un bravo ragazzo, saldo nelle sue idee, tirato su secondo i buoni principi, incapace, per esempio, di mettersi a scherzare con i clienti, come quei belli imbusti del paradiso. Era una persona onesta. Era uno di casa. Lui non giocava sulla vendita, come se fosse un valore di borsa. «E a quando il matrimonio?», chiese la Badù. «C'è tempo», rispose. «Voglio mantenere le mie promesse». Lei non si mosse. Disse soltanto dopo un po'. «Genevieve, ci muore». Badù si trattenne, ma si sentiva portar via dalla rabbia. Lui sarebbe morto se seguitavano a scombussolarlo così. Era colpa sua? Voleva bene alla figlia. Avrebbe dato il sangue per lei, ma non poteva fare che il negozio andasse bene quando non voleva più andare. Genevieve doveva avere un po' di giudizio e aspettare con pazienza un bilancio migliore. Che diavolo! Colomban era lì. Nessuno glielo rubava. «Pare impossibile», ripeteva una ragazza educata tanto bene. La moglie non aggiunse nulla. Aveva indovinato ormai i tormenti che a Genevieve dava la gelosia, ma non credette di dovergli dire al marito. Una curiosa timidezza le impediva sempre di entrare con lui in discorsi di delicatezza e di amore. Quando Badù la vide star zitta zitta, sfogò la sua furia con quelli di fronte, tenendo i pugni verso i lavoranti. Quella notte mettevano su delle traverse di ferro con grandi martellate. Denise stava per rientrare nel paradiso delle signore. Si era accorta che i rubini, costretti a fare economia, non osavano licenziarla. Per poter reggere ancora, bisognava che facessero tutto da loro. Gaugian, ostinato nei suoi rancori, faceva loro credito, prometteva perfino di trovare dei capitali, ma erano impauriti e volevano tentare il risparmio e l'ordine. Per quindici giorni, Denise sentì che erano imbarazzati con lei e dovette parlare per prima, dicendo loro che si era trovata un altro posto. Respirarono. La signora l'abbracciò commossa, dicendole che l'avrebbe sempre rimpianta. Poi, quando la giovinetta dovette aggiungere che tornava da mure, Rubino diventò pallido. «Fate bene!» esclamò cupamente. Era meno facile dire la cosa al vecchio burà. Eppure Denise non poteva fare a meno di lasciare la stanza e tremava, sentendo per lui viva riconoscenza. Burà, per l'appunto, con quel frastuono attorno, era furibondo dalla mattina alla sera. I carri gli sbarravano la strada, i picconi li entravano nei muri, al rumore di martelli tutta la bottega, gli ombrelli e i bastoni ballavano. Pareva che la casetta tra tutta quella furia di demolizioni si dovesse spezzare. Ma il peggio era che l'ingegnere, per mettere in comunicazione i reparti del magazzino con quelli del vecchio palazzo d'Uvilard, aveva pensato di scavare un corridoio sotto la casetta che li separava. La casa era di mure. Il contratto diceva che i restauri toccavano al proprietario e una bella mattina i muratori si presentarono dall'ombrellaio. Se non gli venne un accidente fu un miracolo. Non bastava averlo stretto da tutte le parti, a destra, a sinistra, di dietro, anche sotto ora. Gli volevano scavare la terra sotto i piedi, ora. Cacciò via i muratori e ricorse al tribunale. Restauri? Sta bene, ma questi erano abbellimenti. Per il quartiere dicevano che avrebbe vinto lui, ma bisognava vedere comunque. In ogni modo il processo era un affare lungo e tutti si appassionavano a quell'interminabile duello. Il giorno che Denise si decise alla fine di dargli la disdetta, Burra tornava appunto dal suo avvocato. Ci credereste? Le gridò infuriato. Ora, dicendo che la casa non è solida, pretendono dimostrare che bisogna rinforzare le fondamenta. Lo credo io, a forza di scuoterla con quegli accidenti di macchine. Deve cascare sì, un giorno o l'altro. Quando poi la giovinetta gli ebbe detto che se n'andava, che tornava al paradiso con mille franchi di stipendio, ne fu così sbalordito che non fece altro che alzare al cielo le sue vecchie mani tremolanti. Dall'emozione era cascato su di una seggiola. «Voi! Voi!» balbettò. «Io solo resto! Io solo!» E dopo un po' chiese «E Pepe?» «Tornerà dalla Grasse», rispose Denise. «Gli voleva tanto bene». Si calmarono di nuovo. Denise avrebbe preferito che andasse su tutte le furie, bestemmiasse ed esse dei pugni sul banco. Quel vecchio così commosso, soffocato, le faceva male. Ma poco a poco si riaveva e ricominciava a urlare. «Mille franchi!» «Già, non si rifiutano, ve ne andrete tutti. Andate, andate, lasciatemi solo!» «Sì, solo! Solo! Ce ne sarà uno, almeno, che non piegherà mai il capo e diteglielo che la causa la vincerò io, dovessi restare senza camicia!» Denise non doveva andar via da Rubino che alla fine del mese. Aveva parlato con Mure. Si erano intesi su tutto. Una sera stava per rientrare in casa quando Deloche, che la stava ad aspettare sotto un portone, la fermò. Era tutto contento. Aveva saputo la grande notizia. «Tutti nel magazzino ne parlavano», diceva lui, e le raccontò gongolando le chiacchiere dei reparti. «Che muso lungo che hanno quelle ragazze dell'abbigliamento?» Poi interrompendosi. «A proposito, vi ricordate di Claire? Pare che il padrone se la sia...» «Mi capite?» Era divenuto rosso-rosso. Lei, pallida, esclamò «Messie Mure!» «Bel gusto, non è vero? Pare un cavallo. Almeno quell'altra della biancheria che si prese l'anno precedente era carina. Ma già, contento lui, contenti tutti!» Denise salì in fretta le scale. Quando fu nella sua stanza si sentì quasi svenire. Forse le aveva salite troppo in fretta. Quei gomiti sulla finestra ebbe un'improvvisa visione di valogne. Della via deserta. Del pavimento tutt'erba che vedeva dalla sua cameretta di bambina. E sentiva un gran bisogno di tornare laggiù, di rifugiarsi nell'oblio e nella pace della provincia. Parigi li irritava. Udiva il paradiso delle signore. Non riusciva a capire come avesse potuto consentire a tornarvi. Certo, nuovi dolori ve l'aspettavano. Da quando aveva sentito le chiacchiere di Deloche soffriva già ad un ignoto malessere. Allora, senza sapere perché, uno scoppio di pianto l'obbligò a levarsi di lì. Pianse a lungo e sfogatasi ritrovò un po' di coraggio per affrontare la vita. Il giorno dopo, all'ora di colazione, essendo stata mandata da Robineau a fare certe commissioni, nel passare davanti al vecchio Elbeuf vide Colomban solo nel negozio e si affacciò alla porta. I Badou erano a tavola. Si sentiva il rumore delle forchette in fondo al salottino. «Potete entrare», disse il commesso. «Sono a tavola». Ma lei gli fece cenno di star zitto e lo tirò in un angolo parlandogli sommessamente. «Con voi voglio parlare, ma non avete cuore. Non vedete che Genevieve vi vuol bene e che la fate morire?» Fremeva tutta. La febbre del giorno prima la riprendeva. Lui, sbalordito da quell'improvviso assalto, la guardava senza saper che dire. «Capite», continuò Denise. «Genevieve, sa che volete bene a un'altra. Me l'ha detto lei e si inghiozzava da far pietà ai sassi. Ah, povera disgraziata! In un bello stato l'avete ridotta. Se aveste visto che braccia, una cosa da far piangere, voi non potete farla morire così». Alla fine, egli rispose tutto sottosopra. «Ma non è mica malata? Voi esagerate. A me non pare. E poi è suo padre che rimanda sempre il nostro matrimonio». Lei, senza tanti riguardi, disse che era una bugia. S'era accorta che una parola sola del giovane avrebbe fatto decidere lo zio. Ma la sorpresa di Colomban non era finta. Non se n'era mai accorto davvero della lenta agonia di Genevieve. E fu per lui sgradevole più che doloroso accorgersene. Finché non lo sapeva, non aveva rimproveri troppo grossi da farsi. «E per chi?» ripigliava Denise. «Per una poco di buono. Non lo sapete dunque a chi volete bene? Non ve l'ho voluto dire fin ad ora per non darvi questo dispiacere. Ho schivato di rispondere alle vostre continue domande. Ebbene, sì, lei va con tutti. Si burla di voi. Non l'avrete mai. O se l'avrete, l'avrete come gli altri, per una sola volta di sfuggita». Pallido pallido, egli ascoltava, e ad ogni frase che lei gli gettava sul viso, gli tremavano le labbra e stringeva i denti. Denise, divenuta crudele, si lasciava trascinare da un impeto, di cui non si accorgeva. «Insomma», disse in un ultimo grido, «ora è mantenuta da Muret, se la volete sapere tutta». La voce le restava in gola e diventava più pallida di lui. Si guardarono, poi lui mormorò. «Le voglio bene». Allora Denise fu presa dalla vergogna. Perché mai parlava a quel giovanotto? E perché se la pigliava così a cuore? Non sapeva più che dire. Quell'unica frase che egli le aveva risposto. Le rintoccava nel cuore come una campana lontana che l'assordasse. «Le voglio bene». Aveva ragione lui. Amava. Non ne poteva sposare un'altra. Nel voltarsi vide Genevieve sulla soglia del salottino. «Zitto», disse subito a Colomban. Ma era troppo tardi. Genevieve doveva aver sentito. Non aveva più una goccia di sangue nelle labbra. Proprio in quel momento entrò una signora. Era la Bourdellè, una delle poche rimaste fedeli al vecchio Boeuf, dove trovava roba più resistente. Da un pezzo la De Boeuf era andata, seguendo la moda, al paradiso. La Martì non veniva più nemmeno lei, vinta dalla seduzione delle vetrine di fronte, e Genevieve fu costretta a farsi avanti per domandare cortesemente «Che desidera, signora?». La Bourdellè voleva vedere della flanella. Colomban tirò giù una pezza da uno scaffale. Genevieve mostrò la stoffa, e si trovarono tutti e due con le mani geli d'accanto, dietro un banco. Usciva intanto dal salottino Badou, dietro alla moglie, che si era messa allo sgabello della cassa. Ma da principio non si occupò della vendita. Sorrise a Denise, e rimase dritto a guardare la Bourdellè. «Non è tanto bella», diceva questa. «Fatemene vedere di più resistente». Colomban tirò giù un'altra pezza. La signora guardò e riguardò la stoffa. Nessuno apriva bocca. «E quanto?» «Sei franchi», rispose Genevieve. La Bourdellè fece un moto improvviso. «Sei franchi? Ma di fronte la danno questa stessa a cinque!». Il viso di Badou si contrasse leggermente. Non poté trattenersi dal dire, con tutta la garbatezza possibile, che la signora si doveva ingannare. Quella stoffa valeva sei e cinquanta. Era impossibile che la dessero per cinque franchi. Doveva essere un'altra flanella. «No, no», ripeteva la Bourdellè, con l'ostinazione di una borghese, che non vuole essere imbrogliata. «La flanella è la stessa! Anzi, forse, forse quella lì è un po' più forte!» E la discussione si fece più viva. Badou, col sangue alla testa, doveva fare un grande sforzo per continuare a sorridere. La sua ira contro il paradiso gli restava in gola. «Insomma», disse alla fine la signora, «bisogna che mi trattiate meglio, se no anch'io andrò di fronte!». A queste parole il negoziante perse la testa e urlò, scosso da uno scoppio di collera, «E lei vada di fronte!». Ella si alzò offesa e se n'andò senza nemmeno voltarsi, rispondendo «Guardi, la servo subito!». rimasero tutti atterriti dalla violenza di Badou. Egli stesso tremava, sbalordito da ciò che aveva detto. Quelle parole gli erano scappate di bocca, senza che egli volesse, nell'esplosione di un rancore lungamente nutrito. Ed ora i suoi occhi, immobili, spaventati, seguivano con lo sguardo la burdelè che attraversava la strada. Pareva loro che si portasse via con sé la fortuna. Quando col suo passo tranquillo, ella entrò nel portone del paradiso. Quando la videro perdersi tra la gente, sentirono quasi uno strappo nell'anima. «Un'altra che ci portano via», mormorò il vecchio. Poi, volgendosi a Denise, di cui sapeva già i nuovi impegni, «Anche te! T'hanno riacchiappata! Non per questo me la piglierò. Hanno i quattrini, sono più forti!». Denise, sperando che Genevieve non avesse sentito Colombin, le stava dicendo in un orecchio «Vi vuol bene? State allegra!». Ma la giovane le rispose con un fil di voce, in cui si sentiva lo strazio «Perché dite una bugia? Guardate, non è mica più padrone di sé, ha gli occhi lassù, me l'hanno rubato. Come ci hanno rubato tutto!». E andò a mettersi a sedere, alla cassa, accanto alla mamma. Questa aveva certo indovinato la nuova ferita di lei. Perché i suoi occhi, pieni di lacrime, si fissarono prima sulla figlia, poi su Colombin, in ultimo sul paradiso. Era vero. Il paradiso rubava loro ogni cosa. Al padre, la ricchezza. Alla madre, la figlia morente. Alla figlia, uno sposo aspettato dieci anni. Davanti a quella famiglia, che le pareva già condannata alla rovina, Denise, col cuore che le si struggeva per la pietà, ebbe per un momento paura d'essere cattiva. Perché andava ad aiutare la macchina che schiacciava così la gente? Ma si sentiva quasi sospinta da una forza e sentiva di fare il male. Insomma, riprese Badou per farsi cuore. Non moriremo mica per questo. Una cliente perduta, dieci ritrovate. Capisci, Denise? O di là sessantamila Franchi, che faranno perdere parecchi sonni al tuo mure. Su, su, voi altre! Non siamo in un mortorio da aver questi visi! Non gli riuscì di rallegrarle. Ricadeva egli stesso in una cupa costernazione. E restavano lì tutti con gli occhi sul mostro, senza poter torcere via gli occhi e pensare ad altro che alle loro sciagure. I lavori erano al termine. Avevano già tolte dalla facciata le impalcature. Un'ala del gigantesco edificio appariva con i suoi muri bianchi e le larghe vetrine lucide. Lungo il marciapiede, per l'uso della gente, stavano in fila otto carrelli che i garzoni caricavano uno dopo l'altro dinnanzi all'ufficio di spedizione. Sotto il sole, di cui un raggio dava sulla via, il verde, il giallo e il rosso di quelle carrozze mandavano come specchi i riflessi accecanti fino in fondo al vecchio il boeuf. I cocchieri, vestiti di nero, severamente impettiti, tenevano a freno i cavalli, bellissimi cavalli che scotevano i sonagli inargentati e, ogni volta che un carrello era pieno, si sentiva sull'astricato il rumore assordante delle ruote che faceva tremare le bottegucce vicine. Allora, davanti a quel corteo trionfale che per forza...